Mentre la produzione ripulisce l'immagine di Ele Noir, scopriamo perché Marco Bellavia non è in studio. Mentre la produzione ripulisce l'immagine di Ele Noir, scopriamo perché Marco Bellavia non è in studio. . ING. Resiz è uguale 662% 2C397-38. SSL uguale 1 Alt uguale Class uguale WP Image meno 359.442 data recalc DIMS uguale 1, maggiore in queste ore gli autori del Grande Fratello WP7 si stanno affannando per cercare una soluzione per ripulire l'immagine di Ele Noir Ferruzzi ormai inevitabilmente compromessa. La trans, come sapete, si è resa protagonista di numerosi scivoloni. In primis le insinuazioni di portare sfiga e lo sputo a Nikita Pelison, Ele Noir Ferruzzi sempre più fuori di testa minaccia e sputa in direzione di Nikita. Poi l'improvviso allontanamento da Daniele Dal Moro, accusato da Ele Noir di vergognarsi delle tenerezze avute con lei perché transessuale. Ieri sera tra i due sono volati stracci, come potete leggere qui Grande Fratello WP7, volano stracci tra Ele Noir e Daniele. Il web è veramente